ma era realtà il silenzio delle stelle attraverso maria teresa g entità ho compiuto più volte la circumnavigazione della terra balzando da un continente all'altro e una volta ti ho prelevata nottetempo e condotta con me tu lo so l'hai scambiato per un sogno ma era realtà abbracciati ci siamo lasciati trasportare nell'etere e tu eri al colmo dello stupore potendo distinguere nitidamente la sfericità dei contorni terrestri e i colori diversificati dei mari delle montagne innevate dei boschi dei deserti ricordi quello che tu hai chiamato sogno molte volte tu credi di sognare ma si tratta di escursioni astrali questa diversità puoi facilmente comprenderla dalla particolare vivezza di quelli che erroneamente ritieni sogni e dall'emozione che ti lasciano dentro commento ecco che cosa può avvenire durante la piccola morte che è il sonno i sogni astrali che sono i viaggi nel piano astrale sono veri quando lasciano in chi li ha vissuti la certezza che esistono dimensioni superiori li viviamo per questo e e e e e Grazie a tutti